Zitti! ...pura Nagasaki d'unirsi in matrimonio per dritto il primo della propria volontà e della per consenso dei parenti cui testimoni all'otto lo sposo poi la sposa E' tutto fatto! E' tutto fatto! E' tutto fatto! Il primo bloggio c'è troppo questo po' ma chi è bularille! non è la biblia posto di te mi froderà